Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Abbiamo disceso una parte del Mekong controcorrente, adesso andiamo a visitare un villaggio qua della zona, sempre della provincia di Luan Prabang. La guida Matteo ci ha consigliato di salutare tutti gli abitanti del villaggio con la frase Sabadì che significa pace e aggiungendo le mani in quanto potrebbero crederci spiriti maligni addirittura. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Saba di 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 Grazie a tutti.